molto spesso si sente dire ma con la stessa cifra i mac a parità di prezzo hanno hardware meno potente di un pc ma le vostre esigenze sono di potenza o di efficienza un pc potente serve un professionista per lavorare meglio con la musica con le immagini con i video con tutto ciò che necessita di un elaboratore in grado di fare calcoli complessi in maniera più veloce allo stesso modo è la scelta del videogiocatore perché è la potenza di calcolo quella che genera la grafica mozzafiato dei giochi di ultima generazione se non siete videogiocatori o professionisti dunque la potenza non vi serve dall'altra parte ci sono poi i mac il premium price che qui si paga non è di potenza grazie a un sistema meglio ottimizzato e alcuni componenti più curati pensiamo agli schermi agli imbittibili trackpad apple le batterie e molto altro mac risulta più affidabile e veloce nell'utilizzo di tutti i giorni come in navigazione nella gestione dei file nella stessura dei documenti mentre perde nell'operazione di calcolo molto impegnative sebbene sia una scelta molto gettonata dei professionisti